Quella macchina sembra sul lato sbagliato della carreggiata. Sono gli Hyde! Sembrano arrabbiati! Portaci in salvo! Vai, vai, vai! Puoi vedere qualcosa di magico? Abracadabra! Pilota automatico! Mi serve un assistente, Bibi. Fratello, non credo di avere la forza di combattere. Bola! Merendine! Andiamoci sotto! Non funziona niente! Che facciamo? Continua pure a leggere! Bene! Vamica fuori! Fuori! See you man with me per me. Scrappacchi scusatis! Ok, semp mal sulla è. sono inutile. Scrappacchi scusatisano! Ce si è.